Bananarama, Venus, 8 e 13 minuti, Crystal Radio, Good Morning Milano, oggi celebriamo, ho deciso che oggi celebriamo Good Morning Milano in quanto Good Morning Milano, come lo facciamo? Vi porto qui, sono ben contento che hanno accettato il mio invito, in realtà me l'hanno imposto, l'hanno deciso loro, tutte le persone che appunto sono dietro a questo show. Lei la conoscete già, la nostra bionda anni 90, la conoscete, è lei, è Lisa Galmarini, buongiorno Elisa. Ma buongiorno Fabio. La nostra producer, anni 90 per il look, non perché c'è, anni 90 non ha neanche dei pensieri di nessuno proprio, quindi insomma super giovane come tutte le ragazze che appunto vengono qui a fare il tirocinio curriculare per l'università, ma appunto lei diciamo che è la producer di questo programma, abbiamo ancora un mese di programmazione insieme, sei pronta? Sì, sì, è ancora lungo il percorso. È ancora lungo il percorso. Percorso invece che sta vedendo la linea di traguardo è quello invece della nostra regista Maria Banfi, buongiorno Maria. Buongiorno Fabio, ciao a tutti. Sono passati tre mesi, quando ci si diverte il tempo passa. Esatto, il tempo vola quando ci si diverte. Hai visto? Allora, com'è andata Maria, com'è stata questa esperienza? Raccontiamo un attimo, Maria tu che cosa studi e com'è che sei finita qua? Allora, io studio alla Yulm, studio televisione, sono finita qua a fare il mio stage curriculare, è da tre mesi che sono qua, da febbraio, e ormai sta finendo questo periodo e io sono triste. Ecco, nonostante il sorriso isterico forse, ecco, forse in realtà è quello. Sperdici, sono quelle persone che anche ai funerali cominciano a ridere senza motivo, no? Ci sono quelle persone che per l'isteria incominciano un po' per l'imbaraggio. Ah, quindi anche lei è una settimana che ride interrottamente, senza motivo praticamente. Domani? Domani, domani è l'ultimo giorno. Domani è the last day, domani è un altro giorno, l'ultimo però. Esatto, l'ultimo però della mia... La tua esistenza, no, faccio il senso adesso, non esagerare. Non esageriamo, del mio stage. Dopodiché l'indirizzo è questo, non cambia, se poi sentite la mancanza puoi passare di quattro vacce. Assolutamente, verrà a trovarvi. Tre mesi. Io e Lisa abbiamo già programmato quando verrà a trovarvi. Ah, bene, avete già una vacanza... Il 4 giugno sono qua, ragazzo. Avete già una vacanza in... Sapete che ci sono state due stagiste che sono state qua, proprio anni fa, nel 2017, credo. Parlo di Greta e Arianna, che dopo una settimana che erano, stavano facendo... Tre mesi anche loro, eh. Dopo una settimana che hanno fatto lo stage, hanno deciso e hanno prenotato una vacanza insieme a fine stage. Quindi il giorno, il sabato dopo che hanno finito lo stage, sono partite per una settimana insieme. Non si parlano più. No, non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero. Nello dice, la regista ce la prendiamo noi, dice Nello. Bene, grazie Nello. Io adesso sono in cerca di lavoro, quindi va bene. Ecco, perfetto, perfetto. Infatti, se volete, giriamo anche i curriculum alle varie agenzie per il lavoro che vogliono dare un lavoro a queste ragazze. Com'è stata questa esperienza? Tre mesi, eh? Tre mesi belli, tre mesi di nuove esperienze, ho imparato un sacco di cose. Poi, cioè, è stato anche bello proprio stare in contatto anche con voi, conoscere Elisa, Nina, Fede, un sacco di persone che mi hanno dato anche tanto, comunque, cioè, comunque che mi porto un po' nel cuore. Poi anche te, Fabio, ovviamente. Attenzione, Gaglia. Anche te, Fabio, non dimentichiamo. Ultimo, ma non per importanza. Grazie, grazie. No, ecco, attenzione a dire le cose più scontate in assoluto perché rubate qualcosa a dire a quelli che vengono dopo. Quindi, attenzione, ve lo dico già, a quelli che sono fuori dal vetro che arrivano dopo. Non vale dire quello che ha detto lui, eh? No, no, dovete comunque avere una vostra... Hai imparato? Sì, devo dire di sì. Perché comunque, cioè, in università, vabbè, abbiamo fatto dei laboratori così, ma alla fine, di pratico, è qua sul campo che si impara. E questo strano strumento della radio, Elisa? Cos'è la radio? Tu non avresti mai pensato di finire a fare la radio, no? Invece adesso pensi, in una settimana già è la seconda volta che sei dietro a un microfono. Assolutamente sì. È la seconda volta e finirò tutti i giorni adesso dietro al microfono con Fabio. Mi sa che l'ha capito che finirà così adesso. Bello, bellissimo. È uno strumento importantissimo la radio. Degli strumenti importantissimi per comunicare e da scoprire, ecco. Però è uno strumento che non è tanto legato alla vostra generazione. Oppure ce le facciamo noi queste pare? Uso anche parole. No, secondo me, no. Cioè, comunque, dei miei coetanei, così c'è, gente che ascolta radio. Magari anche non proprio nella forma classica, ma anche attraverso podcast. Però alla fine, secondo me, è uno strumento che fa ancora parte della nostra generazione. Per me è importantissima la radio. La mattina, io quando salgo in macchina, puntualmente, voluma, palla e radio. Mi fa proprio concordo. Devi dire radio, Cristo e radio. Certo, assolutamente. Gli altri non ci sono. No, 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 no. Mi raccomando. Ecco, i tuoi amici che ascoltano la radio, mi raccomando, spaccagli le radio e metti solo il 96.2. Ovviamente. Noi siamo così democratici e appunto vi imponiamo di ascoltarci. E invece, comunque, 331-7853-555, se volete fare qualche domanda a queste giovani che stanno appunto facendo il loro percorso formativo qui con noi a Good Morning Milano, beh, siamo ben contenti di girare le vostre domande. Insomma, le domande sono tante e soprattutto, insomma, trovare... Cioè, come si arriva a scegliere di fare questo percorso? Insomma, è un percorso, non hai scelto di fare giurisprudenza, non hai scelto di fare ragioneria o chissà altro, andare a fare ingegneria. È un percorso, comunque, nelle arti, nella comunicazione? Ah, un po' per passione, ovviamente, perché comunque, cioè, in generale, il mondo della comunicazione, secondo me, ti deve appassionare, perché altrimenti, come un po' a tutti i campi, diciamocelo, però ti deve proprio appassionare, secondo me, comunque, essere curiosi, soprattutto. Cioè, è un mondo in cui bisogna essere curiosi, secondo me. Ah, ecco, vedi. Beh, di curiosità tu, Elisa, ti nutri tutto il giorno, il pane, il sale e l'acqua della tua vita? Assolutamente, certo. Poi, è vero, secondo me, sono d'accordissimo con Maria sul fatto che bisogna essere curiosi e soprattutto provare ad ascoltarci, capire chi siamo, nel senso cosa, chi siamo, a cosa vogliamo aspirare, o comunque a cosa vogliamo diventare, diciamo. Anche proprio come ci sentiamo, nel senso che mi piacerebbe, secondo me, sono una comunicatrice, penso di essere una comunicatrice, mi dovrei avvicinare a qualcosa che mi aiuti a comunicare, a scrivermi meglio, a ascoltarci un po' di più, secondo me. Non è male che qualcuno che vuole comunicare, in realtà, parte dall'ascoltarsi di più, complimenti. Ecco, queste sono, pensate, le saggezze che mi arrivano tutti i giorni da queste ragazze, che molto spesso noi definiamo, ah, sì, i giovani d'oggi, la genzetta, ma sì, cosa vuoi che ne sappiano, tutto il giorno su TikTok, ed è vero anche. Però, non è solo quello, invece, non è solo quello. Maria, diciamolo, tu sei una star di TikTok, no? No, allora, non io. Io sono solo il portale su cui potete vedere mio padre, ovvero la vera star di TikTok, che ultimamente non sto neanche facendo tanti, diciamo, tanti video, perché non lo vedo quasi più, perché è sempre in giro per lavoro. Però, se volete seguire le TikTok, scusate, i miei TikTok per le barzolette di mio padre, potete seguirmi a Marie Banfi. Marie Banfi? Sì, scritto così, l'ho dato come si legge. Ok, così. Se volete, insomma, un barzellettone, ve lo assicuro, cioè, proprio, ah, guardate, io non me lo perderei, me lo metterei nei preferiti, cioè, si può mettere nei preferiti anche, cioè, nei favorites. Nei favorites, sì. Fatevi un Pinterest, apritelo solo per mettere dentro tutte le robe di Marie Banfi, Marie Banfi, appunto, e le barzette di suo papà. Va bene, Maria, allora, io ti ringrazio. Dopo torni magari per un saluto finale, ti rimando in regia, così ci prendiamo qualcuno. La regia, che invece viene qua a farci compagnia. Tu rimani ancora qui con me, che mi rendi tranquillo, e poi dopo, invece, abbiamo ancora tante, tanti altri che arriveranno qua, appunto. La canzone che va adesso, la scelta Maria, possiamo dirlo? Sì. Ok. Miley Cyrus, va bene? Yes. Ci piace? Con Flowers. Di nuovo qui dopo Miley Cyrus, con un altro, un altro del backstage, un altro di quelli che lavorano dietro le quinte. Lo lascio, Elisa, presentalo tu. Il pezzo forte. Oggi, aspetta, ossia, è l'unico uomo, oltre a Fabio, l'unico ragazzo. E lì non c'è l'oltre a Fabio, perché Fabio era più un ragazzo, benissimo. L'unico ragazzo che abbiamo nel nostro gruppo di fanciuli. Ormai, amici, possiamo dire. Sì, ormai, sì. Abbiamo anche un gruppo WhatsApp che si chiama Le Ragazze di Milano News, e Federico fa parte di questo gruppo, ed è proprio Federico Martinetti qui in nostra compagnia. Buongiorno, Elisa, grazie per la presentazione, buongiorno a tutti. Sì, diciamo... Federico, ma non ti avevano detto che dovevamo andare in onda oggi? Sì, ti avevano detto. No, perché tutti si sono vestiti molto bene, e volevo capire, com'è che non è arrivata la comunicazione a te? Anche questa mattina, purtroppo, quella è stata l'ultima dei miei pensieri. Cioè, hai visto che Elisa ha le mostrine di diamanti. Ma Elisa ha organizzato per questa cosa qua, diciamo che io non sono ancora così preparata. Regia, fammela vedere un attimo, le spalline di Elisa, guarda che roba le spalline di Elisa, che sono tutte tempestate di diamanti. E le tue spalline, Fede? Sono bruttissime, lo so. Sono belle dentro. No, Fede è bello, sia dentro che fuori. Solo complimenti. Solo complimenti, almeno una volta in tre mesi. Eh, ma perché siamo in onda, dietro le quinte in realtà è diversa la situazione, lo sappiamo tutti. Fede, tu non finisci questa settimana, tu hai un mese davanti a te, appunto. Tu, anche tu, studi comunicazione. Cosa studi e com'è che sei finito qua? Allora, io, vabbè, io innanzitutto non sono milanese, sono piemontese, vengo da Mondovì, provincia di Cuneo. Non si sente. Non si sente, in realtà si sente, credo. Si sente benissimo. E, cosa dire, ho fatto la trennale in economia aziendale a Cuneo, mi sono spostato a Milano a ottobre 2022, sto facendo comunicazione pubblica ed impresa, appunto. Sono qua, come tutti gli altri stagisti, per fare tirocinio curricolare e finisco con Edi a fine giugno. A fine giugno. Dovrà sopportarmi ancora per un po', ma non credo sia un problema. No, 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 alla fine si vogliono bene, ma la cosa interessante è che tutto quello che vedete sui nostri social passano dalle mani, nel bene e nel male passano dalle mani del buon Federico. Che, come sta andando questa esperienza, Federico? Bene, bene, è un'esperienza formativa che comunque... Sta fermo, non dai in giro, vieni qua, fermati. Scusa, non sono abituato a pressione della diretta. Comunque, no, è un'esperienza formativa che il cui punto principale positivo credo che sia proprio lo stare a contatto con le persone, il mettersi in gioco quando serve, comunque entrare a contatto anche con diverse realtà, sempre è una cosa positiva. È un ambiente dinamico, diciamo, questa è la grande forza, secondo me, di questa cosa qua. Avete fatto anche la Civil Week nel vostro cosa, per una settimana, tre giorni in giro per la città, conoscendo realtà che erano completamente sconosciute a voi, anzi per uno che viene fuori da Milano, magari è stato anche... E quanto è complicato per uno che viene fuori da Milano capire questo mondo milanese? Ma, no, come ho detto prima, comunque, diciamo, è un'occasione per mettersi in gioco e per scoprire queste nuove realtà. Poi, appunto, prima facevo esattamente riferimento alla Civil Week, quando dicevo che è un ambiente dinamico che ti fa entrare a contatto con le persone, perché... È stata sicuramente un'esperienza positiva e, li può confermare, ci ha fatto divertire, ci ha formato e ci ha fatto scoprire anche nuove cose molto interessanti. E ci ha fatto anche sconfiggere le nostre paure questa Civil Week. Esattamente. Perché, risa, raccontaci cosa è successo. Raccontaci un po'. Perché Federico... Le sue paure, io mi dissocio. No, entrambi, dai, siamo terrorizzati dalle api e quindi ci hanno obbligati a metterci davanti ai fiori dove svolazzavano le api, a dire, fermatevi qua e guardatele, guardate che non vi fanno niente. Ah, è finita in ospedale? È che non è servita in realtà, perché tornando da quell'evento lì, poi ci siamo fermati a fare benzina ed incredibilmente ho trovato un'ape che è uscita dalla sua macchina vicino al serbatoio. Mi sono messa a correre. E l'ha terrorizzata a... Però, scusa, vuol dire che vi siete presi l'ape, la tua parenti dovete riportarla all'evento, dovete riportarla. Però non mi ha fatto niente, scusa. No, non ci ha fatto niente, però ero lì che correva in M3, il benzinaio. Cioè, se avete visto una 500 in un benzinaio con una bionda che ci continuava a girare in tondo, non era una challenge TikTok, ma era Elisa terrorizzata da un'ape. Federico, tra l'altro, non mi ha aiutata, era lì che rideva. Ah, bene. Per non sapere come affrontare la situazione, sarei sceso comunque a fare benzina io nel caso a cui fosse servito. Vi siete messi anche in situazioni che magari non erano quelle cose da voi. Ad un certo punto tu, appunto, Elisa, sei anche finita in video a fare interviste e tutto. Tu hai fatto il camera, ma ad un certo punto, no? Come c'è? Cose che non avevate mai fatto fino adesso. Sì, è stato esattamente quello che intendevo prima col mettersi in gioco, con provare comunque nuove cose. È stata un'occasione per provare. Credo che sia riuscita bene comunque. Poi la fortuna, in realtà, della Civil Week era che tutti i contenuti non sarebbero andati in diretta, quindi magari avremmo la possibilità di rifarli, di riprovare. Quello è stata una cosa positiva. Diversamente da questo istante, invece. Esattamente da questo istante in cui se sbagliamo purtroppo tutti se ne accorgeranno. Rimarranno gli annali, come si dice in questi casi. Rimarrà esattamente. Cosa ti aspetti dal prossimo mese di stage adesso? Ormai che sei imparato, come si dice da queste parti. Magari che arrivi a un'altra quota azzura come me, così almeno stringo amicizie anche con uno del mio sesso. Non che sia un problema avere solo ragazzo, però mi farebbe piacere avere anche un altro ragazzo con cui... Ogni tanto è un po' complicato, insomma, in certi discorsi facciamo fatica a entrarci dentro. Faccio fatica proprio a inserirmi, però sto diventando una di loro. Come ha detto Eli prima, sono una bimba di Milano Gnusa, anche io. Ecco, ecco. Insomma, quando Maria inizia a parlarci dei suoi vestiti della sarta, noi facciamo un po' fatica effettivamente a entrare nel discorso. Però raggiungeremo la maggioranza anche noi, secondo me, prima o poi. Ce la faremo prima o poi, bene, bene. Fede, grazie allora. Io adesso mando invece una canzone che hai scelto tua. Hai scelto proprio poco prima di entrare in onda. Mi hai detto che ti piacerebbe Annalisa. No, ti piaceva un altro. Come si chiamava? Simba 22. Simba 22, che però ignoriamo completamente d'esistenza. Non è ancora nei registri, però, come ho detto prima, arriverà. Arriverà, arriverà. Arriverà anche Simba 22. Ma invece, adesso andiamo con Annalisa. Abbiamo scelto una canzone che tu hai detto, sì, sì, quella lì mi piace. Vento sulla luna. Confermi? Vento sulla luna, sì, sì. Non l'ha mai sentita? È una di quelle che ascolto meno, probabilmente, ma per mettere quelle più mainstream, dai. Credo che al pubblico piacerà. È un po' la versione indie, diciamo. Sì, è una via di mezzo, diciamo. Non è sinceramente, non è neanche la peggiore che ha fatto, probabilmente. Ah, perfetto, ok. Allora, dopo questa bellissima presentazione, vi lasciamo con Annalisa. Vento sulla luna, insieme ad Arcom, appunto, qui a Good Morning Milano. Poi, piccola pausa pubblicitaria, torniamo perché, appunto, i nostri collaboratori, le nostre colonne portanti di Good Morning Milano sono ancora tante e tornano qui, in studio con noi. Dopo di noi, appunto, c'è anche Nina, qui in studio con noi. Poi, insomma, vediamo se riusciamo a portare anche Francesca e poi vediamo. Billy Eilish con Bad Guy. Il nostro Bad Guy è già andato via, appunto, Federico, l'unico bad guy che abbiamo, l'unico guy che abbiamo, l'unico ragazzo che abbiamo, quindi non può essere sia bad che Good, non ci interessa, in realtà è l'unico. Ma, invece, Elisa, appunto, nostra producer, ora, seconda voce di Good Morning Milano per questa mattina, presentaci la nuova, graditissima ospite che è in studio con noi. Eccoci qua, siamo in compagnia di un'altra delle fantastiche Girls di Good Morning Milano, abbiamo Andreina Deleon, facci sentire com'è il ruggito Deleon che c'è in te. Aiuto. Ciao, buongiorno, grazie. Benvenuto da Andreina Deleon, Rosario Gimenez, Camerita Silva. No, quello non andava detto, però no. Ne ha solo uno, ne ha solo due di cognomi, non ne ha 18, ogni volta la bullizzo così, chiedo scusa, dai, è quasi finita. È quasi finita, Andreina, sei felice? No, in realtà sono molto triste. Non per te, Fabio. Grazie. Sempre gentile. Sto scherzando. Mi mancherete, mi mancherete, tutti quanti. Tu, Andreina, hai fatto uno stage abbastanza particolare, perché è stata proprio una funzione, hai avuto proprio una funzione particolare all'interno di questa redazione per quasi due mesi e mezzo. Come sei arrivato, tu cosa studi e come ci sei arrivata appunto a questa esperienza e cosa poi ci portiamo a casa? Allora, io studio Scienze Umanistiche della Comunicazione in Statale e sono venuta qui perché dovevo fare appunto stage curricolare come tutti noi e in realtà mi ero proposta per un'altra cosa, ovvero fare i social. Ma pensa, a termine, ma insomma, non lo diciamo, a termine ho preferito Federico, pensa quanto non siamo capaci di fare il nostro lavoro. No, in realtà è perché ho fatto una brutta impressione al colloquio, me ne rendo conto. Andreina non ha fatto un colloquio eccellente, devo dire la verità. Ma, ma, ma? Però ci sono stata simpatica, credo, Fabio. Quello tanto, sì. Infatti sono qui. Tu hai inventato un posto per me, praticamente. Più o meno sì, ma poi ci hai salvato la vita. Figurati tu. E quindi sono venuta a fare la Event Producer, questo grande titolone. Comunque è stata una bella esperienza perché ho dovuto aiutarti a organizzare degli eventi e è stato bello perché mi sono davvero messa in gioco. Perché è qualcosa che, cioè nel senso, mi sono dovuta esporre perché io sono molto timida e invece ho dovuto contattare le persone, parlare, parlare con la gente. Pensa quanto ho capito bene anch'io, no? Cioè una timida che è presa a fare una roba dove hai dovuto fare un penso, boh, un centinaio di telefonate e le hai fatte. Però in realtà, ecco, mi sono resa conto che mettersi in gioco ogni tanto fa bene. Ho scoperto qualcosa anche di me perché mi è piaciuto. Ah, vedi vedere. In realtà sì, quindi... E quindi anche questa esperienza di questa mattina che se te l'avessi proposta due mesi fa... Mai. Ma neanche per sogno, cioè ma neanche si davo dei soldi lo faceva, cioè... Probabile. Infatti. E invece? E invece lo stiamo facendo e... Bello, devo dire. Allora, diciamo la verità, lo stage curriculare in alcuni dei casi del vostro è proprio una costrizione, diciamoci la verità. Cioè nel senso che avreste avuto un bellissimo fatto a me, non nel senso. No, invece è... Com'è andata però alla fine, nel senso? Ti saresti mai aspettato che un obbligo diventava poi una cosa piacevole, spero, nel senso, mi auguro. Come no, è stato molto divertente. Mi sono trovata molto bene. Sì, effettivamente avrei tanto voluto non dover fare questa cosa. No, immagino, immagino, ci sta, ci sta. Infatti avevo ansia che me la sarei vissuta molto male. E invece sono molto contenta e devo dire che forse è l'esperienza migliore che mi sarebbe potuta capitare, forse a livello di... Mi commuovo qua. No, Elisa, io mi devo commuovere, non tu. Elisa sta piangendo. Perché, insomma, ho incontrato tante belle persone e soprattutto non sono stata giudicata nel fare una cosa che comunque per me era nuova. Mentre magari in un'altra realtà sarebbero stati più severi. Là c'è stata che abbiamo gente che ha fatto lo stage qui che poi ci ha ripreso perché non siamo stati abbastanza severi. E nel posto in cui vanno li trattano male, noi li trattiamo bene, siamo stati ripresi noi perché li trattiamo bene. No, però impariamo senza l'eccessiva pressione che potrebbe esserci altrove. La cosa più bella che hai fatto in questi mesi cosa è stata? La Civil Week. Ah, dai. No, mi sono divertito un mondo in realtà, è stato molto bello. Poi appunto mi sono messa sempre in gioco appunto a fare una cosa nuova. E poi penso che abbia anche rafforzato i nostri legami, non lo so. Quindi è stato molto divertente. La cosa più brutta? Quando ho iniziato le 10.000 chiamate dal primo giorno. Effettivamente tu hai iniziato il primo giorno subito al telefono. Esatto. E soprattutto alcune chiamate con gente che non sapeva chi fossi o che cosa gli stavo presentando. Quell'idea Civil Week se lo aspettavano, quelli del primo evento no. E quindi insomma è stato un po' traumatico, però... Ti sei sentita un po' quelli del consente che mandiamo giù. Meno subito a paese. Esatto. Però non vendevi niente, quindi almeno quello. È vero. Almeno quello, almeno quello. E anche tu non sei di Milano, però. C'è anche tu una storia interessante nel senso che ti ha portato qualcosa che ti ha portato qui a Milano, a studiare qui a Milano. Esatto. Com'è questa Milano? Sì, allora io vengo da Ischia, quindi Milano è tutta un'altra cosa, una realtà completamente diversa. Eh beh sì, sai come si dice, no? Se Milano avesse il mare, sarebbe una piccola Berry, quindi neanche col mare diventerebbe Ischia, capito? Cioè quindi proprio Ischia, neanche col mare, quindi niente. Anche se, devo dire, mi ha fatto stranissimo che qua Ischia la conoscono tutti. Eh beh sì, ma credo che sia anche per il numero di pizzerie che si chiamano tipo piccola Ischia, Ischia, Ischitano, cosa del genere. Sono una marea a Milano di pizzeria La Bella Ischia. La Bella Ischia. E quindi nulla, l'esperienza è completamente nuova, però è stato ovviamente molto bello perché comunque ti confronti con un mondo più grande e capisci anche che fuori la piccola isoletta c'è un mondo. Com'è questa Milano? Allora, nell'ultimo periodo l'ho rivalutata. All'inizio, cioè nel senso, ovviamente ti senti sola e spaifata, però poi ho ovviamente fatto amicizia, ho conosciuto tante persone e ho imparato anche a scoprire di più la città, anche perché appunto va in giro, vedi tanti posti nuovi, quindi Milano è bella comunque, mi dispiace lasciarla adesso. Eh, perché adesso invece però sei così bella che per adesso appunto dovrai lasciarla invece però perché è tanto bella ma chiede tanto. Vero, verissimo, quindi non è facile vivere a Milano in realtà. Quindi finiti gli studi appunto, se non si trova subito un lavoro bisogna, anzi, tu adesso dovrai fare la tesi giusto, quindi hai un periodo in cui ovviamente non potrai lavorare e quindi dovrai per forza tornartene. Scriverò dal mare. Sì, vabbè, diciamo che poteva starti peggio. Esatto, non posso lamentarmi. Adesso ricordiamo sempre che Federico è di Mondovicio, poteva andarti peggio effettivamente, effettivamente. Elisa, lei ha detto che ha trovato tanta gente, ha conosciuto tante persone, però non ha conosciuto quella persona. Non ha conosciuto quella persona, quindi, cari ascoltatori. So che perché è un tema che a te, cioè tu ce l'hai dentro questo tema. Sì, 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 allora abbiamo qui con noi Andrina De Leon dall'Alma Latina, quindi importantissimo, è briosa, è spumeggiante, è un po' introversa ma se trova le persone giuste, il momento giusto riesce a tirare fuori il meglio di sé, quindi cari. Senti questa, lei è come il sole al tramonto, nel senso che illumina tutto senza essere così accecante, così che lei arriva lentamente, ma illumina la giornata. Poi il sole durante il tramonto è il momento più bello, cioè è proprio romantico, rosso. Mamma mia, quanti paroloni. Tutto questo per dire che cosa, tutto questo per dire che cosa. Cari ascoltatori, la nostra Andrina è in cerca della sua anima gemella. Beh, Andrina, qual è il tuo prototipo di ragazza? No, allora non facciamo queste cose, per favore. Per chi volesse ascoltare, comunque... Ebbè, a questo punto devi dire. Allora, l'unica cosa che chiedo è alto. Alto? Alto e poi vabbè, gentile, bravo ragazzo, non hai di più. Non ho grandi pretese. Ma adesso come non ho grandi pretese? L'importante è che respiri. E infatti siamo bravati. Esageriamo. Sembrava un po' così, effettivamente. Alto e che respiri. Alto e ancora vivo, diciamo, va bene. E no, vabbè, è il momento... Ci immaginiamo già Andreina sull'altare. Ma dai! Che barca la navalta. Però non so se lo mette con... No, 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 giusto, giusto, ho messo gli uniti di slob di Beatles apposta. Però non so se metterebbe questa, secondo me, Andrina, al suo matrimonio. È vero? Forse no. No. Forse no. Ho paura che metterebbe altro. E sai cosa? Allora, te lo faccio sentire, secondo me, a cosa metterebbe la nostra cara Andreina al suo eventuale... Ma con un milanese, pensa che... No. No, eh. Cioè, diciamo, Milano ti piace così tanto, ma non fino a quel punto. Esatto. Non così tanto. Povera Andrina, vabbè. Andrina, tesi che farai? Tra quanto la tesi ce l'hai? È breve, tu? Se tutto va bene. Se tutto va bene, scusate. Cioè, io penso... Ho le partecipazioni? Le partecipazioni pronte, no? Mi invito tutti quando mi preoccupate. A novembre, se tutto va bene. Se tutto va bene. A novembre, sappiamo già il tema, no? Dobbiamo ancora decidere? Oggi ho il colloquio col professore, quindi si spera. Ma hai delle proposte o lui ti dice cosa fare, nel senso che ha già deciso lui e tu vorrei dire solamente sì? Non ho proprio le idee chiarissime, però vado a vedere, magari ne discuteremo insieme. Tema più o meno, cioè, area, scusa, diciamo, area geografica, in un certo senso. In realtà, il professore è quello di linguistica. Io vorrei fare qualcosa inerente alla scrittura nel mondo della pubblicità, però devo vedere. Ah, vedi, vedi, vedi. Interessante, interessante, va bene. E allora, non credo che, appunto, Andrina andrebbe all'altare, o neanche dal suo relatore, al suo relatore a parlare con All You Need This Love, The Beatles, di sottofondo, ma, o a detta sua, forse potrebbe esserci invece una Jenny from the block, anzi, una Jennifer Lopez on the floor. Grazie mille, Anina, ci vediamo dopo per i saluti finali, allora. Ciao, Jennifer Lopez on the floor. Jennifer Lopez on the floor. E siamo arrivati quasi alla fine, ma non prima di avere qui in studio con noi un'altra ragazza che solo due settimane ha fatto qui con noi, venerdì, finisce anche lei, ma perché lei sta facendo una cosa un po' diversa da voi, Elisa, giusto? Sì, esatto. Cosa sta facendo? Cosa sta facendo, la Francia? Non sa neanche lei. Non sa neanche Elisa. Ci fa compagnia? Il PCTO. Che cos'è il PCTO? Il PCTO scherzo. Cos'è il PCTO? Non ho la mia idea di cosa voglia dire la sigla, quella che una volta era l'alternanza scuola-lavoro. Che in questi casi benvenga. Oh no. Francesca, buongiorno. Buongiorno, Fabio. Allora, te lo avessi mai pensato, prima di tutto, di fare un PCTO e finire in onda in radio diretta in tutta la Lombardia? No. E così, invece. L'ultima cosa immaginata. E invece è qua. Tu studi, stai facendo la quinta quarta, quarta superiore, è maggiorenne, quindi non mi rompete le scatole, è maggiorenne poi venire in onda. Come sei finita qua, però? Nel senso, in realtà un po' per caso, però, insomma, la tua passione forse ti ha spinto. Raccontaci un po', dai. Allora, io studio, sono al quarto anno di Servizi Culturali dello Spettacolo, che comprende una serie di materie di indirizzo, tra cui cinema e audio-video, quindi mi occupo anche di montaggio, infatti sto aiutando la Mary in questi giorni a montare le dirette. e io ho una grande passione per il cinema e mi ha spinto a fare questa scuola e poi, grazie ai miei professori, sono riuscita ad arrivare qua allo studio di... Tu hai anche una grande passione per la musica, però, giusto? Sì. Perché hai un... tu sei una musicista. Un passato. Beh, non un passato, anche un presente, no? Tu cosa suoni? Io suonavo corno francese, suonavo in realtà perché ho smesso, però suonavo corno francese e pianoforte. Ecco, capito. Tu cosa suoni, Lissana Marini? Io ho attualmente i tassi del compito. Sì, quindi neanche il citofono perché c'è il codice per entrare, quindi neanche il citofono suone, pensa a te. Tra l'altro la Francesca è stata importantissima per noi a livello musicale perché ci ha illustrato il significato del liutaio che da ignorantissimi noi non sapevamo. Ancora questa cosa, cioè pensate, sono prossimi alla laurea e non sapevano cos'è un liutaio. Anzi, non è cos'è il liuto, perché Elisa ancora adesso continua a dire che secondo lei è così. Il liuto che strumento è? Secondo me è uno strumento a fiato. Ecco, invece Francesca, invece Francesca cos'è l'liuto? Uno strumento a corde. Ecco, a corde. Poi si può soffiare sopra se vuoi, ma non suona, ok? Puoi sbuffare se non sai che facci suonarlo, ma non suona, ok, va bene. L'altra scuola, adesso facciamo un passaggio molto serio che voglio fare con te. È una di quelle cose che spesso e volentieri vengono un po' additate, però come una roba che non va bene. Ci sono state anche delle situazioni molto gravi in cui dei ragazzi sono finiti anche proprio, cioè ci sono stati anche dei morti per i PCTO, insomma, è una situazione. Però tu mi dici, almeno da quanto ho capito, che voi e altri due compagni spingevate tantissimo invece per questa esperienza, perché? Sì, io con altri miei compagni spingevamo tantissimo sul fatto di fare il PCTO e di andare in azienda e di spostarci oltre quello che è il luogo scolastico, perché penso sia importantissimo per capire un attimo come approcciarsi al mondo del lavoro, anche perché una volta finite le superiori, chi non va avanti sarà praticamente captapultato in questo mondo. Quindi penso che sia utile farlo anche durante la scuola, così inizia a capirlo, vai un po' piano piano. Io dici, nel tuo tipo di scuola è fondamentale, è importante che ci sia. Sì. Benissimo. Allora ragazzi, io devo chiudere, mi spiace Francesca, devo chiudere un po' velocemente anche perché voglio, per i saluti, voglio tenervi tutti qui, quindi rimani qua in studio così che siamo tutti qui in fondo. Per i saluti, prima però una canzone che tu hai visto che era già in scaletta, hai detto no, no, ma lasciatela perché mi va bene. Tra i pensi, cioè, corno francese cosa suoni, ad esempio, quando suoni il corno francese? Quando suonavi il corno francese, qual'era il tuo cavallo di battaglia? Ho fatto l'Aida di Giuseppe Verdi. Ah, beh, come spondi la porta aperta con l'Aida, eh? Sì. Bellissima, bellissima, comunque ecco. Però poi quando hai visto i pinguini tattici ho detto, roba mia, cioè quindi, capite come questa cosa è bella, cioè noi veramente... Non spazio molto, in realtà. Ecco, ma è bello questo, noi abbiamo un'idea preconcetta di queste generazioni che è completamente sbagliata. Dopodiché, possiamo dire dove eri qualche sabato sera fa, senza fare luoghi precisi, perché non so se la dico, sono ancora indagando. Era una serata tecno. Ecco, che è durata quante ore, quanti giorni? Eh, in realtà tre giorni, cioè tre giorni. C'è, corno francese, rave party e pinguini tattici nucleari, cioè c'è tutto, capito? C'è tutto e c'è tutto un mondo che, posso dire, ce l'avevamo anche noi, adesso facciamo i figli a dire che no, perché noi ascoltiamo i Beatles, ascoltiamo solo la roba d'altro, ma non è così, non è così. E questo è il bello, appunto, dell'essere giovani ed è questo, forse, quella roba bella che diceva, ma i miei tempi, è ovvio che i miei tempi è più bello, avevo vent'anni, grazie alla musica. Va bene, andiamo avanti allora, pinguini tattici nucleari, grazie mille Francesca, rimani qui, Elisa rimani qui, anzi adesso invitiamo tutti gli altri a venire qua dentro per fare i saluti finali. 9.01, è tardissimo, ma guardate quanta bella gente c'è in questo studio. Allora vi vorrei un saluto generale, date un bel ciao a chi ci sta ascoltando da casa. Ciao! Ecco, e allora grazie mille a Ninna, grazie mille a Elisa, Federico, Maria e Francesca, grazie mille, da domani, domani è l'ultimo giorno appunto di Ninna e di Maria e di Francesca, anche è vero, tutte e tre domani ci salutate, ragazzi noi invece rimaniamo qua, mi raccomando, mi raccomando, ci mancheremo tantissimo. Torniamo a trovarci. Tornete a trovarci, speriamo, speriamo, speriamo. In ritardissimo, diamo la linea ad Ambrogio Curti, anzi date voi, date la linea ad Ambrogio Curti, dite dopo di noi, dai, 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 dopo di noi, Ambrogio Curti, con, con, Senti Questa! Ambrogio, te abbiamo fatto il promo, mi raccomando, registra, vai in radio e riprendi la registrazione perché questa te la devi portare a casa, dai, 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 dopo di noi Ambrogio Curti con Senti Questa! E allora grazie a tutti voi di averci ascoltato, domani comunque in diretta qui dalle 7.09 su Crystal Radio ancora con Good Morning Milano, ancora per un giorno con Nina, Francesca e Maria e poi comunque appunto noi saremo qua sempre fino a fine giugno per raccontarvi Milano, la città metropolitana e tutto quello che fa grande la nostra città. Grazie mille ancora oggi alle nostre ragazze e ragazze per essere stati qui con noi, grazie davvero. Grazie, grazie Fabio. E anche appunto grazie a voi che ci avete ascoltato, così che insomma possiamo trovarci di nuovo domani mattina qui, ancora con i giornali, con i whatsapp, 331-7853-555, FM96.2, DAV+, applicazione per iOS e Android, sito internet, anzi mi raccomando adesso Maria e Francesca vanno di là perché dobbiamo tagliare tutti i pezzi, giusto? Ovviamente. Dobbiamo tagliuzzare tutti i pezzi della diretta per appunto il nostro podcast che finisce anche su Spotify. Grazie mille, ciao a domani! Ciao! Ciao!